Sindaco, una bella giornata di sole per inaugurare un altro angolo verde attrezzato, questa volta sempre allo scalo all'incrocio tra via Maestri del Lavoro e via Pescara. Sì, un altro spazio che regaliamo alla città, uno spazio verde dove potranno intrattenersi i più giovani, così come gli adulti, è uno spazio che doniamo alla città convinti che il recupero anche di questi piccoli spazi possa rendere la qualità della vita migliore, possa rendere soprattutto la città più bella e renderla a misura d'uomo. Oggi noi in questo modo, regalando questo spazio, la scorsa settimana con lo spazio a via Miterno e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, inaugurando anche le altre aree recuperate della città, sono convinto che stiamo compiendo quel percorso che porta Chieti ad essere una città con un'alta qualità del vivere e della vita. Ci sono anche i servizi un diurno e soprattutto sul cartello un QR code? Sì, sono servizi dei quali la città ha bisogno, so che questo tra l'altro ha creato qualche polemica con i genitori delle scuole vicine, ma sono certo che comprenderanno anche loro che prima di urlare al dramma bisogna vedere che cosa capiterà. Saremo vigili e faremo in modo che non crei problemi la presenza di questo diurno. È anche prevista peraltro l'installazione di una serie di telecamere col tempo che renderanno ancora più sicura quest'area. Quanto al QR code è un'iniziativa che abbiamo preso già da qualche mese. Su molti cartelli della viabilità della nostra città è presente il QR code che consente, scaricando una semplice app sul proprio telefonino, sul proprio smartphone, di avere informazioni su quell'area. In questo caso quel QR code ci dice come è stata realizzata quest'area, qual è la funzione di quest'area e quando è stata inaugurata. Per le vie è la stessa cosa, il QR code ci indica quella strada dove si trova e le vicende storiche del personaggio a cui è stata quella strada. E a proposito, per monitorare e tenere sotto controllo quest'area verde e quindi salvaguardarla, da oggi anche dai preziosi piccoli alleati. Sì, abbiamo voluto simbolicamente affidare quest'area ai bambini della scuola per l'infanzia che si trova qui vicino. È un modo per far crescere in loro l'attenzione e la cultura del rispetto della cosa pubblica. Grazie.